la musica si abbassa all'inizio si era già abbassa gli amici se ne vanno allora abbassiamo un altro pochino un altro integratone piuttosto pesantone esatto valvolare perché dico un altro perché abbiamo recentemente fatto il video della recensione del canor è bravo anch'esso integrato completamente analogico di stampo tradizionale quindi in realtà questi due prodotti sono simili appartengono alla stessa categoria merceologica e credo che più o meno come prezzo se la battano più o meno poi dopo il dettaglio del prezzo dopo successivamente in questo caso ci siamo anche divertiti a fare una operazione che è stata interessante quella del tube rolling come parli bene in inglese che significa sostanzialmente il cambiare le valvole in modo tale da fare delle prove perché questo apparecchio permette l'utilizzazione delle delle da 65 50 con cui esce di serie fino alle kt 150 e credo anche le kt 180 ma insomma ci si possono mettere qualsiasi tipo di valvola e attraverso un sistema che poi vedremo meglio dopo il il prodotto si adatta autoregola si autoregola benissimo allora subscribe campanella e mi raccomando seguiteci anche sul nostro sito web www.audio-2g.com o punto it mi raccomando perché troverete dei contenuti extra ok ciao siamo alla descrizione del prodotto a tra poco è un po diverso dai soliti copland a cui siamo abituati quantomeno da quelli che abbiamo visto ultimamente leggi il nostro esatto non fosse altro per questa striscetta nera bella bella si bella bella con questi coreografici fila di led che dicono tube 1 tube 2 tube 3 tube 4 e che indicano sostanzialmente lo stato di funzionamento dei quattro tubi che stanno dentro perché stiamo ragionando di un push pull esattamente push pull classico classicissimo classico e la cosa molto interessante che si riesce a mettere qualsiasi tipo di tubo anche non particolarmente selezionato fra di loro perché c'è questo sistema di auto bias che qui ci racconta come va il tubo attraverso questo tasto si spengono o si accendono i primi led eccoli qua quando l'apparecchio si accende si cominciano a illuminare i primi led blu poi i led verde che significa che è operativo se si cominciano a accendere arancione e rosso vuol dire che c'è qualche problema o però è anche vero che nel funzionamento spinto poi lo facciamo vedere e questi indicatori funzionano un po come fossero dei view meter nel senso che facendo vedere la corrente che circola all'interno del tubo che ovviamente sale quando uno gli dà gas e si rende conto sembrano dei view meter anni 80 che esatto si rende conto di in che condizione sta lavorando il tubo dal punto di vista della operatività parliamo proprio del più classico dei classici quindi c'è la solita e impostazione copland elegantissima come sempre quindi il volume il settore degli ingressi e l'elemento circolare che ci da conto di quale ingresso è selezionato un tasto di stand by e il classico il tape fine quattro ingressi non ci sono ingressi in xlr non sono ingressi bilanciati e dal punto di vista operativo niente il fono non è più a tubi come era prima fino al cta 408 perché poi c'è questa curiosità che il modello che questo manda in pensione si chiama cta 408 e questo 407 un downgrade perché questo è leggermente meno potente dell'altro che era equipaggiato con le kt 150 e tirava fuori una settantina di watt laddove questo invece 50 eroga 50 watt ho il fono che equipaggia questo amplificatore che peraltro va molto bene e ho il fondato sospetto che sia tale quale al fono che equipaggia il nostro cta 100 che va anch'esso molto bene quindi essendo uguale esatto e il sospetto credo sia legittimo legittimo esattamente e quindi cosa altro dire classica impostazione copland la saga dei cta dal 401 405 405 a e adesso il poi 408 e abbiamo detto il 407 che si posiziona dal punto di vista del prezzo più o meno come gli altri e sul ha la caratteristica di essere una garanzia anche sul mercato dell'usato perché ora i copland vanno si sono sempre andati e vanno tantissimo assolutamente io credo che adesso ce lo guardiamo dal punto di vista dell'interno vediamo come come è fatto lo anticipiamo benissimo come sempre da tradizione copland però ecco quello che mi premia sottolineare ancora una volta è l'impostazione del prodotto l'amplificatore integrato a valvole punto e fine nessuna concessione a streamer dac roba di questo genere tant'è che infatti nella pannello di selezione degli ingressi sparisce quello che invece c'è sul cta l'accento la D della sezione digital perché qua effettivamente la sezione digital non c'è non c'è e forse questa è la scelta ma forse questa è una scelta è una scelta giusta e andiamo a vedere che c'è dentro lo sventriamo anche se ecco qua 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 e poca roba 4 iti lo faccio fare a te ma sarà molto interessante va bene a tra poco a tra poco caro giulio sventrare queste cose come sai è sempre un gran piacere per me vieni vieni vai tuffiamoci qua dentro prima di tutto trasformatori toroidali sia per l'alimentazione che di uscita della toroidi che è un'azienda polacca polacca perfetto aspettate che chissà dove sono i miei occhiali ecco va bene quindi sono suddivisi equamente in destro sinistro e alimentazione per tutte e due i canali ma con avvolgimenti separati per i canali sinistro e destro ok 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 poi alimentazione questo è il trasformatori no piccolo che serve per lo standby relay di accensione quelli sono tutti gli stabilizzatori sono quattro stabilizzatori per i quattro rami diversi di alimentazione queste sono le valvole pre amplificatrice quindi sicuramente una farà il canale sinistro una il canale destro e questo per certo fra il buffer il buffer d'ingresso condensatori elettrolitici per i tubi infatti sono da 500 volt 470 micro farad e questo 500 volt 220 micro farad che per certo farà l'alimentazione dei dubbi di pre amplificazione questi qua invece dei dubbi finali questo invece è la alimentazione a parte che serve per gli stati di ingresso con un bellissimo condensatore elettrolitico rosso v cup estremamente costoso o cosa ho fatto ho fatto qualcosa in più perché tu lo sai che non mi sono state e quindi questo è lo stadiofono che va poi su quel connettore ma lo vediamo molto interessante la alimentazione che è un'alimentazione separata solo per lui con 79 12 e 78 12 quindi più o meno se vi interessa sapere l'alimentazione 15 volt condensatori di filtro solo per lo stadiofono e come potete vedere da questi transistor smd stadiofono a discreti ok questo stadiofono va inserito qui dentro in questo so che inseriamo insieme eccolo qui eccolo qua ok in verticale esatto e poi ci abbiamo quest'altro schedone che io ho estratto senza che giulio mi vedesse perché sennò tremava questo è uno che è la scheda che serve per fare il bias il bias automatico ok ok eccola qua questa è un'esclusiva assoluta di copland e fai il bias automatico e questa se ne va se ne va qua dietro al school scusate prima che metto la scheda notiamo i rele che servono per fare lo switch e l'ingresso la commutazione dell'ingresso la commutazione l'ingresso volete che inserisco la scheda davanti a poi lo desidera aspetta che io mi posiziono altrimenti eccola qua la scheda inserita e quindi eccellente costruzione tra l'altro potenziometro del volume giusto bravo potenziometro del volume della serie rk di alps questo è il motorizzato di attuazione esatto e questo è l'ottimo potenziometro io avrei praticamente finito visto che però va a comprare la classica schedona delle diciamo dei servizi dell'interfaccia fondamentalmente e sotto bravo giulio e c'è la schedona stretta e lunga dei led che compaiono sul pannello frontale che possiamo anche vedere qui nel dettaglio che ci hanno i rimandi ottici vedete quelle quelle stanghezzine esatto quindi vediamo se riusciamo a sirone sto inquadrando per bene esatto quello che poi mandi ho detto altrimenti sono la fila di led che vede qua sotto che viene riportata attraverso quelli mandi oggi bravo giulio mi era completamente sfuggita questa va bene e i socket delle valvole sono quelli standard soliti insomma ceramici per amici ci sono fatte e qui in questo momento sono montate le 65 50 elettro elettro armonix quelle della dotazione di serie direi che dal punto di vista condizionale costruttivo è molto ben fatto ma non ci sono come posso dire delle innovazioni particolari no il classico amplificatore a valvole la cui unica innovazione e non è da poco è questa del sistema di bias una cosa che non abbiamo detto ma è talmente ovvia che non l'abbiamo detta ma poi magari per qualcuno potrebbe esserlo di meno il fatto del dei binding post cioè dei connettori degli altoparlanti dove abbiamo sotto quelli della 0 0 del neutro della massa mentre invece quelli superiori che sono differenti 4 oma e 8 oma a seconda del tipo di diffusore che andrete ad utilizzarci infatti si vede qui sul connettore vedete ground ground 4 4 8 8 quadri amolo esatto ground ground 4 8 esatto eccoli lì esatto e che poi eccoli qua vedete questo è dal dal trasformatore infatti se seguiamo i cavi marrone arancione e bianco finiscono da un trasformatore eccolo qua tracete trasformatore e all'altro trasformato e all'altro trasformato ecco qui sono canale destro canale sinistro e queste sono le uscite dei dubbi esattamente più chiaro di così si muore bene richiudiamo tutto e funzionerà lo so ne sono certo anche se ho staccato tutto smembrato di brutto il nostro amplificatore funzionerà a dopo ciao ecco facciamo il tube rolling tube rolling infatti per fare il tube rolling ecco qua gli scatolini 65 50 che togliamo kt 150 che mettiamo facciamo vedere la scatola così vediamo di che brand sono sono delle tune soul quindi si staccano le valvole di serie devo capire perché queste operazioni dedicate le fai fare perché io sono l'operatore ci sono il video operator video mecca 4 e 4 vado fuori campo è così le metto a posto qui e tolgo e siccome queste sono esattamente identiche fra di loro e ringraziamo l'ingegner chiappetta che ce le ha prestate della s di aglio ringraziamo pubblicamente assolutamente e quindi possiamo inserire allegramente le kt 150 che hanno una forma leggermente diversa più grandi a me sinceramente questa forma piace molto adesso so che non c'entra niente rispetto al suono va bene però dal punto di vista della sono molto accattivanti hanno un po la forma di una lampa d'anni 60 un po più cara ecco qua ed ecco il quartetto bello e pronto a suonare vediamo di accenderlo e sentire come vanno a dopo mi viene da dire la saga dei copland la saga dei copland sì perché non li vedete ma qua davanti ce ne abbiamo due e abbiamo anche provato il 70 e abbiamo provato il 70 con io ho provato anche il 150 allora la produzione attuale di copland posso dire di di conoscere la coperta tu sì 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 allora che dire bello apparecchio mi è piaciuta la possibilità del cambio valvole molto perché dico questo perché obiettivamente io l'ho apprezzato di più con le kt 150 con cui lo abbiamo provato rispetto alle valvole di serie e ringraziamo pubblicamente fulvio chiappetta in zona chiappetta della si audio titolare della si audio che cortesemente ci ha fatto questa questa gentilezza di prestarci queste queste valvole e certo è che fare un'operazione del genere significa mettere sul piatto altri 7 800 euro perché tra le 65 50 in dotazione dover comprare un set di 4 kt 150 più o meno il costo è quello c'è da dire però che questo sistema di tuning del bias mi viene a dire computerizzato comunque automatico funziona molto bene e quindi si riesce ad armonizzare anche valvole relativamente diverse fra di loro per cui non c'è bisogno di comprare coppie selezionate fra di loro particolarmente spinte per cui possiamo anche affermare che anche se non trovate 4 kt 150 che sono match in pair l'amplificatore le autogestisce in modo che che vadano bene comunque dunque per quale motivo ho detto che mi sono piaciute di più le 150 rispetto a quelle di prima dotazione perché ho avuto nettamente la sensazione che fossero come dire in grado di dargli un maggior corpo un maggior rilievo e una maggior sostanza al suono su tutto lo spettro quindi non sto dicendo più bello il medio più bello la gamma bassa alta no sto semplicemente dicendo che c'era più profondità più rilievo come se i suoni fossero più come dire a tutto tondo più scolpiti e normalmente io associo questo tipo di caratteristica a una eccellente micro dinamica ovvero quella che ti permette a bassi livelli non sto dicendo a bassi livelli di volume ma sto dicendo in un piano orchestrale prima che entri il pieno orchestrale la capacità di percepire il rilievo i fraseggi i fraseggi i dettagli capire che quel gruppo di archi sta lì quel gruppo di ottoni sta dall'altra parte un po' più indietro che il solista sta più avanti che il pianoforte riesca a sentirlo nei dettagli nelle sfumature nel suo corpo poi arriva il pieno e ugualmente devo essere in grado di gestire le posizioni le percezioni di ogni singolo elemento questa cosa con le kt 150 mi è risultata più facile più immediata come lettura mentre invece con le originali 65 50 65 50 un po' meno ora c'è anche da dire però che poi siamo alle solide di quello che accade con i valvolari e quali sono le valvole in dotazione sono delle ottime elettro harmonics quelle che noi abbiamo provato come kt 150 erano adesso non mi sovviene il nome però è chiaro che lì entra pesantemente la qualità della valvola non solo ma poi comunque pensare di mettere in commercio un prodotto del genere con le kt 150 significava forse andare un po' su di prezzo e quindi non è una scelta sbagliata mettere 4 65 50 ottime e poi lasciare al gusto e alle possibilità dell'appassionato che si porta a casa il 407 se cambiare o meno le valvole e dando tra l'altro ampia possibilità di gioco perché funziona talmente bene il sistema di bias che ci si può divertire tra l'altro ha una protezione per cui pure se ci mettete una valvola quasi in cortocircuito l'amplificatore non si arrabbia più di tanto dal punto di vista dell'ascolto parliamo di un amplificatore proprio dichiaratamente valvolare quindi io direi che tutti i plus di un amplificatore valvolare qui ci sono bellissima la timbrica e bellissimo il colore generale ripeto sempre più bello con le 150 che con le 65 50 e inizialmente in questo video abbiamo parlato di un possibile competitor che è il Canor ecco il Canor secondo me adesso vado a memoria nel senso che l'ascolto è stato fatto un po' di tempo fa e quindi non abbiamo potuto fare un ascolto comparato a B e quando ci si mette di mezzo il ricordo la memoria si rischia sempre di dare dei giudizi un po' imprecisi lì ho avuto la sensazione di un prodotto come dire leggermente più se vogliamo aggressivo il Canor con molta più spinta con molta più verve e qui stiamo in un territorio in cui chi la fa da padrone è la delicatezza sai io qui ho riconosciuto il classico suono dell'integrato Copland a valvole come era quello del 405 del 401 e 402 quindi quel suono lì o le moller che tra l'altro abbiamo incontrato a Monaco ma non si è fatto non si è fatto intervistare come sempre perché le telecamere non gli piacciono l'anno scorso anche mi ha ribadito come questo sarebbe stato il suo classico amplificatore integrato a valvole quindi io non mi aspettavo null'altro se non il suono Copland che tra l'altro è profondamente diverso dal 100 che abbiamo e che usiamo per... questo però mi porta poi a fare un ragionamento che è un po' relativo a, come si può dire, il tratto distintivo di un determinato suono il Copland a transistor, se vogliamo i Copland a transistor quindi il 100, il 150 e il 70 ancora di più il 70 che è tutto transistor mentre invece i 100 e i 150 sono ibridi hanno delle sonorità se vogliamo un po' più moderne, un po' più in linea con quello che ci si aspetta da un amplificatore oggi il 407 che abbiamo provato invece è proprio un suono classico e il Canor di nuovo è un amplificatore se vogliamo con una sonorità più moderna quindi questo non implica un giudizio di merito secondo me meglio il Canor del Copland o viceversa sono due strade sonore un po' differenti dipende da tanti fattori la scelta, che diffusori ci abbinate che tipo di musica ascoltate, in che ambiente ascoltate quindi sono delle valutazioni che cominciano ad essere un po' più complicate e sicuramente non dettate dai 100, 200, 1000 euro di differenza perché c'entra proprio la qualità dell'ascolto che andate cercando ecco l'unica cosa è che l'ingresso Fono non è più l'ingresso Fono a valvole che c'era prima fino al CTA 405 e il 408 ma è bensì stato solido come poi abbiamo anche avuto modo di ribadire è negli ibridi 100 e 150 e nel 70 quindi un suono un po' diverso da quello che mi ricordavo per l'ingresso Fono comunque un eccellente suono ma un po' più verso la modernità piuttosto che verso la tradizione che invece offrivano gli altri per cui Giulio, che cosa dire? ancora una cosa, questo valeva per il Canor ma ovviamente vale anche qui per il Copland l'amplificatore a valvole normalmente è associato a un guaio che è quello della rumorosità in questo caso, e qui si vede la mano del progettista e la mano del costruttore abile dal punto di vista della rumorosità zero zero, spaccato dal punto di vista della praticità d'uso anche qui ti scordi che sia un valvolare sì, è vero dopo un pochino suona meglio ma il pochino lo quantifichiamo in un quarto d'ora, 20 minuti insomma a me è capitato di provare valvolari che andavano al regime dopo un'ora sì sì, tra l'altro se ne accorgeranno le persone che è valvolata solo perché non ci possono appoggiare niente sul coperchio devono lasciare un po' di spazio per l'aerazione mi è piaciuto anche il fatto che ad esempio rispetto al Canor questo apparecchio pur grande è dotato di una bella estetica elegante, sobbia il Canor era un po' scatolone ed è trasportabile diciamo da una persona sola volendo cioè stiamo ragionando di una macchina che pesa mi pare 20 kg eh sì, perché poi lo vedremo, ce l'abbiamo visto nello sventramento, c'ha i trasformatori toroidali e non ha nucleo di ferrite quindi pesano meno e sono più efficienti quindi, bell'apparecchio sicuramente sicuramente non un apparecchio come dire, che trasuda innovazione da tutti i pori io direi che trasuda tradizione tradizione, il classico integrato a valvole ad alte prestazioni ad alte prestazioni, bello e dal punto di vista del rapporto qualità prezzo secondo me è più che onesto nel senso che non costa un'eresia il prezzo lo vedete sotto in descrizione la qualità è assolutamente ineccepibile quindi da questo punto di vista mi sentirei di di passarla a pieni voti e allora si è capito, credo abbastanza chiaramente che a noi Copland è un marchio che piace tanto che ci piace nel nostro cuore io mi ricordo uno dei primi componenti veri di audio serio è stato un lettore cd Copland che insomma che tengo sempre nel mio cuore anche se non ce l'ho più quindi il nostro giudizio probabilmente è un giudizio è un occhio benevolo benevolo nei confronti di questi prodotti però se li merita se li merita credo di su bene se avete trovato interessante e gradevole questo nostro video come sempre vi chiediamo di schiacciare il pulsante subscribe beh se sono arrivati fino a qua se sono arrivati fino a qua esatto e seguiteci seguiteci www.audio2g.com o.it e il nostro sito dove trovate dei contenuti aggiuntivi subscribe e campanella alla prossima ciao ciao